La Commissione europea è fiduciosa sulla formazione di un governo stabile in Italia, è quanto dichiarato questo lunedì dal portavoce Margaritis Schinas, che ha inoltre aggiunto In merito al potenziale impatto sulla formazione di una coalizione di governo, dico solo keep calm and carry on, manteniamo la calma. In Germania è servita proprio una grande coalizione per poter finalmente formare un governo dopo cinque mesi di stallo. Spero sinceramente che le cose progrediscano in Italia così da avere un governo stabile e soprattutto nello spirito europeo comune, ha dichiarato la segretaria generale della CDU. Il presidente francese Emmanuel Macron non si è sbilanciato sui risultati del voto, ma si è limitato a inserirli nel contesto della crisi migratoria. Nel mondo in cui viviamo si possono difendere delle belle idee, ma non è possibile difenderle astraendosi dalla brutalità del contesto. Oggi l'Italia ha innegabilmente sofferto della pressione a cui è sottoposta da mesi e mesi, in un contesto di forte pressione migratoria. Dobbiamo tenerlo presente anche per quello che ci riguarda.